Deve appunto essere un momento di soddisfazione perché andiamo a ripercorrere quello che di bello è stato fatto nel corso dell'anno e poi avete fatto tante cose belle. Prima Maria Grazia, il vostro Presidente, ha raccontato un po' in cifre più di un quinto della tradizione italiana e a livello giovanile è un movimento incredibile. Io è vero sono venuto spesso, continuo ad avvenire e verrò anche molto presto perché dicevo prima Maria Grazia mi piacerebbe fare un incontro diretto con la società in cui è sempre difficile sennò la comunicazione anche a me piace raccontare tante cose che abbiamo fatto e che non riusciamo a comunicare per cui tornerò presto per quello che sarà uno scambio di chiacchiere di opinione rispetto a quello che è stato fatto e quello di fare ma oggi è semplicemente un giorno di permeazioni qui vi voglio fermare della nostra atletica di chi non molla mai perché l'atletica ragazzi è bella, l'atletica è veramente scuola maestra e vita l'atletica e qui nessuno ce la voglia e io ritengo sia uno degli sport più formativi in assoluto mi è anche facile dirlo perché poi i campioni più rappresentati fanno parte comunque di grandi sport che sono altrettanto importanti e altrettanto significativi però l'atletica per la sua semplicità in qualche maniera ha la possibilità di stare dovunque, presentarsi comunque e quindi aiuta a formarsi io credo in una maniera significativa come tutto il mondo dello sport ma noi dell'atletica non possiamo essere un po' di valide